Tutto parte del Laboratorio Nazionale del Sud dell'INFN che ormai da più di 15 anni sono impegnati nell'analizzazione di questo grande rivelatore a 3.500 metri di profondità, chiamato KM3Net. Questo permetterà di studiare l'universo, come si sta evolvendo, come si è formato, ma permetterà anche, grazie alla collaborazione storica che abbiamo con il CNR e l'INGV, di andare a studiare l'ecosistema marino, di andare a studiare dal punto di vista geofisico e vulcanologico, oltre che dal punto di vista della biologia marina, il Mar Mediterraneo e queste due grandi infrastrutture dal Porto di Catania e a Porto Pallo che si stanno realizzando, sono gli unici osservatori già cablati a disposizione nel Mar Mediterraneo e a disposizione di tutta l'Europa.